Sono Romagnolo, arrivo alla fiera, sono Romagnolo, quando? A Cesena, il 22, 23, 24 febbraio, alla Cesena Fiere, ci sarà questa grandissima fiera dell'identità romagnola. Ma tu quando ci sarai? Io ci sono sabato 23 a presentare il mio nuovo spettacolo che debutterà proprio lì. C'è una violinista nuovo? Un bassista nuovo, tante novità. È bellina? È molto carina, molto carina. Io ci sarò anch'io sabato a guardarti, però io invece ci sarò il giorno dopo, la domenica 24 febbraio e tu non so se lo sai. Riceverò il premio più importante della mia vita, il premio che è il Cesena, più importante perché è Romagnolo dell'anno. Siccome, sai, nessuno è mai profeta in patria. Finalmente sarà un premio che ha già vinto Giacobazzi, Ivano Marescotti e quest'anno lo danno a te. Quindi, insomma, una bella soddisfazione è proprio lui, Ivano Marescotti. Il più grande attore di teatro, anche di film. Grande, grande attore, ma ci sono anche delle altre novità. Tantissime novità, quindi dovete venire perché alla domenica presenteremo il trailer del nuovo film Tutto Liscio. Cos'è? È un film che parla di Romagna. Chi c'è? Deve grandi attori, Maria Grazia Cucinotta, Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Samuele Sbrighi, Serena Grandi, Jacopazzi. Ma tu hai scritto, lo dico subito. Aspetta, c'è anche Raul Casadei nel film. Lui, Mirko, finalmente ha scritto la colonna a Sonora del film Tutto Liscio. Cari amici di Radio Bruno, veniteci a trovare. Diciamo bene, Dante, perché il sabato 23 c'è l'Orchestra Casadei, la domenica 24 Raul Casadei, insomma, più di così. Salutiamo gli amici di Radio Bruno. Evviva la Romagna e evvivi il Son Gioese. Ciao Radio Bruno. Ciao Radio Bruno. Ciao. Ciao. Ciao.